In occasione della giornata mondiale della salute mentale, Fondazione Soleterre ha lanciato la sua nuova campagna Uno psicologo per ogni reparto, ovvero l'introduzione della figura dello psicologo letteralmente in ogni reparto a partire da quelli di oncologia pediatrica. Ma non solo, Soleterre chiede inoltre che il supporto psicologico venga riconosciuto come parte integrante della cura del sistema sanitario nazionale. Siamo qui oggi, giornata importantissima, 10 ottobre, giornata mondiale della salute mentale e Soleterre lancia un manifesto in 5 punti per chiedere che il supporto psicologico sia un bene pubblico, accessibile e gratuito e per fare in modo che il governo possa stanziare 7,5 miliardi aggiuntivi alla spesa per la salute mentale per fare in modo che ci possano essere psicologi di base nel territorio e psicologi nelle oncologie pediatriche e pediatrie italiane che sono dei reparti dove le famiglie italiane e i bambini italiani, e non solo italiani perché nelle nostre pediatrie accogliamo pazienti da tutto il mondo, possano effettivamente avere un supporto psicologico in uno dei momenti difficili della loro vita. Il sistema sanitario nazionale ha una media di solo 2,3 psicologi ogni 100.000 abitanti, tra ospedali e consultori pubblici. Per questo molte persone che hanno un urgente bisogno sono costrette a pagare privatamente un professionista. Non c'è salute senza salute mentale, ci ricorda l'Organizzazione Mondiale della Salute e quindi non è possibile distinguere il corpo dalla mente, chi ci ha provato non è ancora arrivato a capire dove sta la mente e quindi prendersi cura della mente significa anche ovviamente prendersi cura del proprio corpo.